Ciao ragazzi, eccoci tornati sul canale di Massimo Milani per una nuova recensione. Oggi però non parleremo di scarpe, ma di tecnologia. In particolar modo, sono sempre stato interessato a capire come la tecnologia può aiutare noi polisti amatori a migliorare. Migliorare che cosa? Sicuramente le prestazioni, ma anche e soprattutto a capire e ad avere la consapevolezza con i nostri limiti. Oggi parleremo con Marco Altini, scienziato romagnolo emigrato in Olanda e negli Stati Uniti, fondatore di HRV for Training, un'app che utilizzo dal 2016 per la misurazione della variabilità del battito cardiaco. Chiederemo a Marco poche cose, fondamentalmente a cosa serve la variabilità del battito cardiaco, perché può essere utile per noi polisti amatori e anche per i professionisti. E infine valuteremo come la variabilità del battito cardiaco può essere misurata attraverso un'applicazione semplice come HRV for Training. Lascio la parola a Marco dal suo ufficio in Olanda, poi torneremo qui sulla panchina per valutare due considerazioni finali. Ciao, a dopo! Ciao Massi, io sono uno scienziato e sviluppatore software. Ho lavorato principalmente all'intersezione tra tecnologia, salute e sport nel corso degli ultimi dieci anni. Ho un dottorato in intelligenza artificiale, una laurea specialistica in ingegneria informatica. Al momento sto prendendo un'altra laurea in scienze motorie con specializzazione in high performance coaching qui all'Università di Amsterdam in Olanda. Tra le altre cose ho sviluppato la tecnologia presente in HRV for Training per misurare la frequenza e la variabilità cardiaca usando il telefono, quindi senza bisogno di sensori esterni. E ora mi occupo anche della nostra piccola azienda cercando di aiutare atleti di vario livello a gestire al meglio lo stress dovuto all'allenamento, così come al lavoro e appunto a tutte le altre forme di stress che possono avere un'influenza sulla nostra prestazione fisica. Fondamentalmente è importante misurare la frequenza del battito cardiaco perché è l'unico modo non invasivo per misurare come il nostro corpo sta rispondendo e si sta adattando all'allenamento, così come ad altre forme di stress. Ovvero nel contesto della corsa o dello sport, ci può aiutare a capire come abbiamo recuperato da sessioni intense precedenti o come stiamo rispondendo ad un blocco, diciamo, di allenamenti più intenso durante un dato periodo. Al giorno d'oggi, come sai, abbiamo vari strumenti che ci aiutano a quantificare lo sforzo durante l'allenamento, ma tutti questi metodi non ci dicono molto su come il nostro corpo poi ha risposto a questo stimolo. Abbiamo recuperato bene, ad esempio, stiamo rispondendo in modo positivo? Possiamo quindi continuare come da programma? O è meglio fare qualche accorgimento perché il corpo è in difficoltà nella gestione dello stimolo e dello stress? Queste domande, diciamo, possiamo cercare di utilizzarle, rispondere usando strumenti come la variabilità cardiaca. Dallo stesso punto di vista, se ci sono altre forme di stress, ad esempio viaggi frequenti, problemi sul lavoro, il tutto verrà catturato da questa misura che quindi riflette lo stress totale sul corpo. Questo è importante perché chiaramente la nostra capacità di gestire lo stress non è illimitata, quindi se accumuliamo stress da varie fonti, limitiamo la nostra capacità e rischiamo quindi di finire in delle situazioni di maladattamento che possono diventare anche croniche come ad esempio un burnout da stress lavorativo o una sindrome da sovralienamento nel caso dello sport. La misura va fatta la mattina appena svegli, in questo modo si limitano altri fattori che potrebbero creare una forma di stress temporanea che poi influenza la misura. Pensa ad esempio anche a una cosa molto semplice, bere un caffè, chiaramente altera il battito cardiaco per un periodo molto breve, quindi fare la misura dopo un espresso non è una buona idea. In generale, visto che durante la giornata ci sono una miriade di fonti di stress che possono influenzare il battito e la variabilità cardiaca, anche ad esempio leggere qualche commento non troppo simpatico online, la cosa migliore è misurare la mattina appena svegli, possibilmente ancora da letto per circa un minuto, in modo da poter misurare il livello di stress cronico del corpo mentre siamo rilassati e poi dal di lì possiamo avere una rappresentazione veritiera. di quella che è la risposta del corpo alle varie forme di stress. Una volta fatta la misura appena svegli è importante ricordare che il valore va sempre confrontato solo con i nostri dati storici, quindi non ha nessun senso confrontare con amici o parenti. Il nostro valore medio dipende da fattori anche genetici, quindi quello che è necessario fare è misurare giorno dopo giorno in modo che HRV4Training o un altro sistema che utilizziamo impari quali sono i tuoi valori normali, ovvero in pratica la tua media dei dati storici in modo che poi il sistema possa confrontare nel corso delle giornate successive come stanno cambiando le cose in risposta ad allenamento e altre variabili legate allo stile di vita, come ad esempio viaggi, stress, lavoro e così via. Quindi musuriamo appena svegli e dopo qualche giorno l'app sarà in grado automaticamente di capire quando ad esempio il corpo è più stressato del solito e quindi vi potrà consigliare di implementare dei piccoli cambiamenti come ad esempio ridurre l'intensità dell'allenamento così che poi si possa recuperare più facilmente e migliorare chiaramente la prestazione sul medio e lungo termine. Fondamentalmente a tutti, se siete professionisti questi strumenti possono essere utili come una conferma che il corpo si sta adattando positivamente così come semplicemente essere un punto di partenza per capire quando qualcosa non va. Al momento ad esempio sto lavorando con la nazionale di triatrono olandese, qui gli atleti hanno usato HRV4Training negli ultimi tre anni e lo usano come uno strumento per iniziare una conversazione. Ad esempio se i dati indicano valori bassi per due o tre giorni, chiaramente c'è qualcosa che non va, qualche fonte di stress più alta del normale e quindi bisogna cercare di capire la causa. Da questo punto di vista lo strumento è utile perché dà la possibilità all'allenatore di identificare questi momenti e di cercare di capire cosa non va per apportare dei cambiamenti. Quindi diciamo che dal punto di vista del professionista questo è uno strumento che anche se siamo in sintonia con il nostro corpo ci può aiutare a capire al meglio come stiamo rispondendo a certe fasi dell'allenamento e che chiaramente è uno dei punti chiave per la vita e lo stile di vita insomma di un atleta professionista. Dal punto di vista dell'amatore invece forse a volte è ancora più rilevante nel senso che ci sono molte forme di stress aggiuntive spesso al di fuori del nostro controllo, il lavoro, gli allenamenti fatti spesso ad orari improbabili perché semplicemente non c'è altro modo, la famiglia e così via e quindi tra l'altro diciamo che spesso c'è anche una capacità un po' meno sviluppata di essere in sintonia con il proprio corpo e di capire al meglio come rispondiamo allo stress e in questo caso sicuramente lo strumento può essere utile a guidarci in piccoli aggiustamenti che possono essere utili di nuovo per la gestione del carico di allenamento e la prestazione a lungo termine. HRV4Training dà la possibilità di gestire al meglio i carichi e lo stress in base a tutti i principi di cui abbiamo appena parlato vi fornisce anche in automatico consigli giornalieri analizzando tutti i vostri dati storici per capire appunto quando siete più stressati del solito in modo che degli aggiustamenti possano venire fatti in modo molto semplice in particolare per il podista fornisce anche una serie di funzionalità aggiuntive che abbiamo sviluppato nel corso degli anni ad esempio la stima del VO2max o insomma del livello di fitness cardiorespiratorio la soglia anaerobica altre funzionalità che permettono di tracciare ad esempio la polarizzazione dell'allenamento ovvero quanti allenamenti vengono fatti a bassa intensità così come il carico cronico rispetto a quello acuto e il conseguente rischio di infortunio HRV4Training è anche l'unico sistema in grado di misurare la variabilità cardiaca usando la fotocamera che è stato validato scientificamente questo solitamente rende il tutto molto più semplice e anche più economico grazie a te Massi per le domande e alla prossima ciao ciao ragazzi spero che l'intervista vi sia piaciuta ad ogni modo se avete dei commenti ricordatevi sempre di lasciarli qua sotto vi chiedo di mettere un like e infine iscrivetevi al canale per non perdervi le prossime puntate che parleranno sia di scarpe sia di tecnologia e anche di alimentazione le mie due considerazioni finali sono abbastanza semplici da un lato credo che HRV4Training abbia cambiato il modo di utilizzare la tecnologia e il carico dell'allenamento concludo questo video dicendo che oggi grazie alla tecnologia Android o iPhone siamo in grado di misurare il carico dell'allenamento e decidere se e come effettuare un allenamento intenso ringrazio nuovamente Marco per il suo contributo spero che nelle prossime settimane potrà darci ulteriori dettagli perché questa è solamente una valutazione di superficie concludo dicendo che le mie magliette sono migliori delle sue ciao e a presto ci vediamo la prossima settimana